con Damiano Zanon giovedì gli allenamenti in casa Giulianova torniamo un attimo sulla vittoria di domenica una vittoria bella ma con un brivido finale ma sicuramente è una partita dai due molti nel senso il primo tempo credo abbiamo interpretato benissimo la partita in secondo forse siamo scesi in campo con molta sufficienza che ci ha creato più di qualche problema anche se loro sono rimasti in dieci e dopo averla dopo che loro hanno pregiato abbiamo cercato di vincere in tutte le maniere e meno male che ci siamo riusciti. Ora ovviamente la terza già domenica a Montesilvano con lo scoltore e a mercoledì con l'angolana due gare fondamentali per il cammino di giallorossi. Sì due gare importanti sappiamo che il campionato dobbiamo inseguire dobbiamo cercare di farlo sempre la maniera possibile cercando di rimanere nelle distanze o addirittura di accorciare per quanto riguarda la coppa è un passaggio che dobbiamo fare nel senso che ci permette anche quella di arrivare a un obiettivo importante e quindi vogliamo cercare la finale e andare anche oltre. Questo ritorno a Giulianova è un po' un ritorno al passato perché si è cresciuto qui nelle giovanili quindi come è andata insomma quest'estate quando è arrivata questa chiamata e le motivazioni che ti hanno spinto a prendere parte a questo progetto? Sicuramente quest'estate dopo l'esperienza da Pezzano avendo un'età per il calcio abbastanza importante l'idea era quella lì di non fare nulla nel senso volevo iniziare un'altra carriera poi è ovvio che quando ti chiamo una società che è una storia importante dove sono cresciuto e che mi ha lanciato nel calcio professionistico ho avuto la voglia dentro di rimettere scappini e quindi credo che questa sia la motivazione principale cercando di portare a casa un obiettivo che questa società merita e questa città merita. Quanto è importante secondo te avere un giocatore della tua esperienza in uno spogliatorio dove ci sono tantissimi ragazzi giovani? Credo che devono essere bravi i giovani a seguire l'esempio di chi si allena, di chi gli porta, gli dice delle cose non per venire qui e fare il fenomeno ma sono qui per portare delle cose che ho visto nella mia carriera e che ho fatto nella mia carriera e devono essere bravi loro e accogliere queste cose perché poi se hai la fortuna di avere questa questa capacità magari nel bagaglio te lo riporti è più facile. Grazie a tutti.